Musica Questa volta Cortone in veste di scrittore, che effetto fa a tornare in città? Vengo in veste di cortonese, in veste di scrittore, in veste di giornalista politico, sto sempre qua, lei abito qua, quindi sta a due metri da casa, grande piacere essere invitato a queste cose, aver scritto un romanzo è una gioia immensa, il fatto che piaccia ancora di più, quindi che vuoi di più? Questo percorso storico fa piacere, no? Sì, è un romanzo che parla di una storia normalissima di cinque amici, però si svolge negli anni Ottanta e quindi, almeno le origini sono negli anni Ottanta e arrivano ai giorni nostri, in un percorso particolare, spero molto divertente, dovrebbe piacere. Floris si rivede in uno di questi cinque amici? In tutti e cinque, in altri mille che immagino, però sono storie di normalità e mi ritengo una persona normale. Questa nuova esperienza, la 7, come sarà? Sarà molto bella, io tenevo tantissimo a questa striscia quotidiana, la potrò fare, la 7 è una rete seria, onesta, professionale, mi piace, sono molto contento. Ci sarà ancora Crozza? Certo, Crozza, Pagnoncelli, tutti insieme. Certo, Crozza, Pagnoncelli, tutti insieme.